anche le ultime due carte andiamo a vedere qual è la quarta la quarta carta quindi ci spostiamo sul fronte più italiano quindi è una carta verde sul nostro Fuzzimib una carta verde sullo Fuzzimib anche in questo caso mi viene da notare che vi è un parallelismo con quella che è la carta rialzista proposta dalla squadra avversaria, la squadra di trader quest'oggi rappresentata Giovanni Piccone esatto diciamo che oggi ci sono parecchie carte che insomma sono in analogia però insomma mi fa piacere che siamo per certi versi d'accordo su queste strategie guarda quello che ti posso dire sul Fuzzimib che sinceramente anche a me spaventa questo livello attuale prima eravamo sotto i 24.000 punti adesso ci stiamo girando un pochettino intorno e i 24.000 punti se andiamo a guardare un po' quelli che sono i livelli pre-Covid vediamo che c'è stato un gap ribassista notevole quindi ovviamente non potrebbe, non credo che si possa ripresentare lo stesso scenario però mi aspetto almeno che da questo livello ci possa essere un ritracciamento abbastanza importante insomma che possa comunque avvicinarsi al nostro livello di ingresso ovviamente secondo me c'è ancora spazio per salire proporre comunque insomma vedere avere una valutazione realzista quindi proporre un trade realzista al momento sugli indici europei come può essere anche un indice americano comporta una propria rischiosità perché comunque c'è poco margine per sfruttare ulteriori trade realzisti visto che comunque i livelli pre-Covid sono intorno ai 25.500 punti quindi c'è ancora spazio per salire però insomma siamo vicini ai massimi quindi cerchiamo di fare un po' attenzione per quanto riguarda appunto i trade al rialzo il livello di ingresso è 23.640 per uno stop loss a 22.500 e un target a 24.700 comunque un target che va andrebbe in realtà a coprire il gap ribassista appunto come ho detto prima a sfruttare la possibilità di copertura del precedente gap e infine a tenerci comunque a dei target che non sono ambiziosi ma che comunque sono abbastanza stretti per questo tipo di operatività ma però è perché è e è è Grazie.